Dieci uomini e una donna, di cui otto fanisi o del territorio, sono stati accolti dal sindaco Seri, dall'assessore Sara Cucchiarini e dalla comandante Annarita Montagna, i nuovi agenti di polizia locale che hanno preso servizio a Fano a tempo indeterminato. Grazie al concorso che si è svolto in estate, la squadra sale così a 50 unità, anche se in base alla legge regionale ne occorrerebbero 61, cioè uno ogni 1000 abitanti. I vertici dell'amministrazione hanno voluto augurare ai neoassunti buon lavoro, richiamando alla necessità di garantire il rispetto delle regole. Vi chiedo di ricordare sempre che rappresentate l'amministrazione, ha affermato il primo cittadino. Queste assunzioni vogliono dare una risposta alla città che chiede attenzione, punti di riferimento e tutela dei propri diritti. Una comunità più è protetta, più ha la possibilità di attuare una politica di crescita. Un plauso alla polizia locale poi è arrivato dall'assessore Sara Cucchiarini, che ha ringraziato il corpo per aver affrontato in modo egregio il periodo difficile della pandemia, nonostante un notevole sottorganico. Questi 11 nuovi agenti che arrivano sono linfe importanti che attendevamo da tempo. Purtroppo il Covid ci ha fatto perdere un po' di tempo, un anno precisamente, altrimenti avremmo avuto già da tempo nuovi vigili. Il corpo oggi si compone di circa 50 agenti e grazie ai nuovi innesti riusciremo comunque nelle prossime settimane e ne daremo comunicazione anche alla stampa a pensare nuovi servizi in città, nei quartieri e soprattutto sulla strada, perché sappiamo che il tema della sicurezza stradale è un tema molto sentito e purtroppo le nostre strade sono pericolose.